Nella società informazionale, prendendo i termini usati da Manuel Castells, considerato a lungo riferimento per gli studi sui new media, cambiano i rapporti tra analogico e digitale. Nella società analogica più lenta, più strutturata, con prodotti finiti, ben collocati nel tempo nello spazio, c'era una certa dimensione anche negli istituti formativi. Nell'età digitale velocissima, del tempo reale, dell'istantaneità, senza uno spazio territoriale preciso, ma neanche con un tempo definito, dobbiamo riadeguare i concetti che ineriscono alla formazione, partendo intanto dalla formazione dei formatori, donne e uomini che formano a loro volta tante persone. È fondamentale, perché spesso, per motivi anche generazionali, non parlo ovviamente a partire da me, chi è stato con i due piedi nell'analogico prima di avventurarsi nel digitale, ha ancora il tracciato dell'analogico dentro la propria forma mentis e quindi bisogna che si parta dalla formazione dei formatori con specifici master, seminari, approfondimenti, costruire un nucleo proprio di formatrici e formatori adeguati al tempo è il primo passo. Poi c'è il problema di evitare qualsiasi digital o cultural divide, cioè le differenze tra chi può accedere e chi no alla struttura della formazione a distanza e quindi il problema della banda larga, della banda ultralarga, una questione democratica essenziale perché tutte e tutti devono avere la cittadinanza digitale che non è meno di altre forme di cittadinanza, la scuola, la sanità e così via. Infine c'è il problema del dialogo interno, è chiaro che l'utilizzo nella formazione dell'online significa rendere più domestico, un altro mediologo Silverson diceva la domestication, cioè rendere più domestico l'utilizzo dei mezzi digitali e quindi l'approssimazione diventa più vicina tra chi dirige e chi è diretto e la partecipazione, l'allargamento dei poteri decisionali sono parte integrante di una rivoluzione digitale se è buona, se va verso una soluzione evoluta e non invece autoritaria. E sono argomenti di cui occuparci prima che tutto ciò diventi appannaggio di pochi oligarchi come Google, Facebook o dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza umana è meglio.